Benvenuti a tutti e grazie a Focus e alla rubrica live di avermi invitato a questa diretta stasera. Io mi chiamo Graziella Bensi, sono farmacista, mi occupo di medicina ayurvedica da più di 30 anni e ancora prima mi sono avvicinata al mondo della scienza vedica, questa antica conoscenza che in qualche modo descrive tutto quello che la vita ci prospetta, ci riserva a livello di individui, a livello di universo e nell'ambito di questa antica scienza, la scienza vedica, la parte della ayurveda è la parte che si dedica alla salute, al mantenimento della salute, al recupero della salute, alla valutazione anche della nostra salute. Appunto mi stavo accennando che ancora prima di avvicinarmi alla medicina ayurvedica più di 30 anni fa, più di 40 anni fa mi sono avvicinata alla pratica della meditazione trascendentale tecnica, introdotta alla fine degli anni 50 in occidente dal suo diffusore Marishimae Shiyogi che è stato il personaggio che diciamo in questi ultimi 50 anni ha caratterizzato in maniera molto determinante la ricerca spirituale per tutta l'umanità che si è interessata ad avvicinarsi a questa pratica. Dopo questi primi anni di pratica della meditazione trascendentale sono appunto arrivata a scoprire la ayurveda perché Marishimae Shiyogi stesso ha incominciato a ripresentare questa antica scienza medica all'occidente avvalendosi della collaborazione dei vaidia, dei medici ayurvedici tradizionali esistenti da migliaia di anni in India avvicinando le famiglie tradizionali che ancora mantenevano questa conoscenza intatta. Ayurveda significa letteralmente scienza della vita, scienza, conoscenza, esperienza anche potremmo dire della vita. Quindi che cosa caratterizza la nostra vita? Soprattutto quali aspetti della nostra vita dobbiamo mantenere in equilibrio per poter mantenere un buon livello di salute ma non solo per sviluppare più elevati stati di coscienza. Come ricordate Dante diceva fatti non fumo per vivere come brutti ma per seguire virtute e conoscenza. Quindi il mantenimento della nostra salute anche per scoprire bene fino in fondo chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. Le eterne tre domande che ogni essere umano prima o poi si fa nella vita. Se abbiamo una buona fisiologia, un buon sistema nervoso equilibrato e di conseguenza tutto questo ci arriva da una buona salute, a queste domande possiamo rispondere ma non solo queste domande riusciamo a porcere. E la Iurveda come valuta il nostro stato di salute? Perché la cosa importante è avere anche una metodica di valutazione del nostro stato di salute. Noi nella medicina moderna abbiamo imparato a valutare il nostro benessere attraverso indagini via via sempre più sofisticate, esami del sangue, TAC, risonanza magnetica, PET e via via la tecnologia moderna ci ha fornito sempre di più di strumenti per indagare nel nostro organismo fino ai livelli via via più sottili. La Iurveda da migliaia di anni si basa su una valutazione apparentemente complicata o possiamo dire apparentemente semplice a seconda di come ci vogliamo porre che è l'analisi del polso. Nella medicina Iurvedica una persona viene esaminata ascoltando a questa persona se di sesso femminile l'arteria radiale del polso sinistro, se di sesso maschile l'arteria radiale del polso destro. Cosa andiamo a rilevare con questa valutazione? e come mai questa valutazione può permetterci addirittura di ottenere delle informazioni molto più precise e profonde rispetto a tutti i mezzi di indagine sofisticati che abbiamo elaborato nella cultura medica moderna? Nel polso andiamo a rilevare quella che è la struttura fondamentale non solo dell'essere umano ma dell'intero universo. Secondo la scienza vedica e in questo caso in particolar modo secondo la medicina Iurvedica l'intero universo è composto da cinque elementi fondamentali spazio, aria, fuoco, acqua, terra. Anche la fisica quantistica in questi ultimi 100-150 anni pensate che Max Planck ha preso il premio Nobel per la fisica nel 1918 ed è stato tra i primi scienziati, tra i primi fisici a parlare di non tanto particelle ma di energia, a parlare di energia. Quindi parliamo di più di 100 anni in cui ormai questa visione della natura e quindi la visione della nostra fisiologia sia basata sul fatto che tutto è frequenza, tutto è vibrazione, tutto è energia. Quindi l'aspetto più materiale dell'universo e del nostro organismo sfuma un pochino in queste considerazioni. E appunto gli antichi scienziati possiamo chiamare vedici, in sanscrito lo scienziato vedico è chiamato con il termine di Rishi, colui che vede, colui che riesce a percepire le fibre più profonde e sottili dell'esistenza e della struttura della natura. I Rishi parlavano appunto in termini di questi cinque elementi fondamentali. I Rishi moderni, gli scienziati moderni parlano di cinque comportamenti diversi delle particelle subelementari, a seconda della velocità con cui si muove l'elettrone nell'orbitale esterno dell'atomo. Questa velocità viene definita dagli scienziati lo spin. Quindi abbiamo diversi gradi di spin, diversi gradi di velocità dell'elettrone nell'orbitale esterno dell'atomo che danno alla materia una struttura apparentemente più solvida o apparentemente più sottile. Come appunto gli antichi Rishi vedici parlano di spazio, quindi qualcosa di assolutamente in manifesto, un contenitore ma assolutamente impercettibile. aria, già qualcosa di più sostanzioso rispetto allo spazio, fuoco, qualcosa che ha delle caratteristiche, delle qualità diverse dallo spazio e dall'aria, acqua e terra. Immaginatevi una cellula, la cellula ha gli spazi nei pori delle sue membrane, spazio aria, ci sono gas dall'ossigeno all'andidride carbonica, all'azoto, ad altri gas nel nostro organismo, fuoco, i processi metabolici che avvengono a livello di questi piccoli corpuscoli che nella cellula si chiamano mitocondri, acqua, il nostro organismo è fatto per il 70-75% di acqua e la cellula ha questo liquido interno e terra. La terra è la parte, diciamo, il costituente del nostro organismo più solido, più così, con caratteristiche sicuramente molto più percepibili rispetto a quegli altri elementi iniziali che abbiamo detto essere lo spazio e l'aria. Però qualsiasi cosa esiste, appunto abbiamo analizzato la struttura della cellula, nella struttura della cellula che è l'elemento costitutivo del nostro organismo, ci sono tutti questi cinque elementi. Secondo la medicina ayurvedica questi cinque elementi vengono e possono essere rilevati in maniera più sostanziale, in maniera più diretta, in maniera più così anche utile a una conclusione di valutazione generale dell'organismo in tre elementi fondamentali. Questi tre elementi fondamentali si chiamano in sanscrito dosha. I cinque elementi fondamentali di cui vi ho parlato prima si chiamano in sanscrito maha butha, maha vuol dire grande, butha, elemento. Il sanscrito è una lingua molto particolare, molto noi diremmo onomatopeica, no? Qualsiasi frase, qualsiasi termine sanscrito ha una frequenza, ha una vibrazione che corrisponde esattamente alla sostanza, all'oggetto che descrive e questo ci rimanda a quella considerazione che vi avevo fatto prima che in realtà tutto quello che esiste nell'universo e quello che esiste anche nel nostro organismo in realtà è frequenza, è vibrazione. Le descrizioni, le antiche descrizioni cosmologiche richiamano molto questo concetto di frequenza, di vibrazione. La musica delle sfere all'inizio era il verbo, tutte queste affermazioni ci descrivevano in termini forse più semplici ma in realtà assolutamente descrittivi di questa realtà ultima che è l'energia. Quindi queste frequenze, queste cinque frequenze fondamentali, questi quindi Pancha, Mahabhuta, cinque elementi fondamentali, li ritroviamo diciamo venire insieme in questi altri tre elementi che in sanscrito si chiamano Dosha. Dosha è la radice di un termino che noi usiamo comunemente nella lingua italiana perché il sanscrito è la madre di tutte le lingue indoeuropee, quindi il latino, il greco, l'italiano, le lingue che caratterizzano il mondo europeo hanno la loro radice nel sanscrito. Il termine Dosha deriva dalla radice sanscrito è Dush. Dush è la radice per i nostri termini italiani che hanno il suffisso Dis, no? Disabile, disarmonia, diseguaglianza. Perché? Perché Dosha significa letteralmente impurità, quindi qualcosa che ci allontana da l'armonia, no? Disarmonia. Perché Dosha vuol dire impurità? Perché questi tre elementi fondamentali alla base del funzionamento della nostra neurofisiologia sono assolutamente indispensabili per la nostra vita, ma allo stesso tempo nel momento in cui escono dal loro equilibrio causano appunto impurità, causano problematiche che poi in ultima analisi si trasformeranno in quello che noi chiamiamo malattie. Ecco perché l'analisi del polso può darci delle informazioni molto anticipate rispetto a quello che può essere l'insorgere di un disturbo più profondo fino a diventare malattia. Perché nel polso, fin dalle prime manifestazioni di squilibrio dei Dosha, noi possiamo rilevare questo squilibrio, capire da cosa è motivato, capire dove può andare o dove è già arrivato e arrivare quando non siamo proprio in una fase estrema di disequilibrio, possiamo arrivare a risistemarlo e quindi a riequilibrare la fisiologia, quindi a risolvere una patologia o a impedire che quella patologia insorga. Secondo la medicina ayurvedica la malattia si struttura dopo sei stadi successivi di squilibrio. Da un primo stadio iniziale di lieve alterazione di questi tre principi metabolici o Dosha si passa a una fase successiva, quindi al secondo stadio della malattia. Per la ayurveda già il primo stadio è patologico, però essendo un primo stadio e essendo rilevabile dal polso in questa sua iniziale manifestazione è molto più facile risolverlo. Il secondo stadio è un incremento ulteriore di questo primo squilibrio e quindi già un pochettino più difficile da risolvere. Il terzo stadio porta questi elementi a uscire dalle loro sedi e quindi a creare disturbi in altre aree diverse da quelle che sono di loro pertinenza inizialmente. Il quarto stadio è la stadiazione in queste altre sedi magari distante dall'origine di questi tre Dosha e quindi ulteriormente c'è un radicamento del disturbo che nel quinto stadio diventa malattia e nel sesto stadio diventa le complicazioni di questa malattia. Allora vediamo un po' più concretamente come potreste riconoscere in voi stessi determinati disturbi e rimandarli a questi tre elementi. Prima di tutto vediamo meglio questi tre elementi come si chiamano, questi tre Dosha come si chiamano, da cosa sono costituiti in termini di cinque elementi fondamentali, dove sono le sedi principali e come si manifestano quando si squilibrano. Questi tre Dosha si chiamano Vata, Pitta e Kapha. Vata è fatto di spazio e aria, quindi dei due elementi fondamentali Panjama Bhuta, spazio e aria, in sanscrito Akasha e Vayu, Pitta, il secondo Dosha è fatto di fuoco e acqua ma soprattutto fuoco, Tejas e Appa in sanscrito e Kapha, il terzo Dosha è fatto di acqua e terra, Appa e Pritvi. Quindi già vedete le caratteristiche diverse di questi tre, no? Vata, spazio e aria, ci immaginiamo qualcosa di instabile, di eternamente in movimento, qualcosa di leggero, di sottile, qualcosa di ruvido, di secco, di freddo, no? Immaginiamo le qualità di Vata pensando al vento. Pitta invece lo possiamo immaginare come caratteristiche più legate appunto al fuoco, quindi sarà caldo, si muoverà leggermente ma non così tanto come Vata, sarà penetrante, no? La fiamma può penetrare, può essere sottile, penetrare, sarà caldo ovviamente e leggermente untuoso e possiamo anche immaginare che abbia un leggero odore rispetto a Vata. Kafa, Acqua e Terra, quindi Appa e Pritvi, ha delle qualità, come vedete già così molto facilmente, opposte a Vata, no? Mentre Vata e Spazio e Aria, Kafa è Acqua e Terra, quindi è stabile, morbido, un pochino untuoso, mantiene la coesione, la struttura, quindi come tre funzioni differenti nel nostro organismo, Vata avrà a che fare con tutto quello che si muove, movimento, trasporto, comunicazione anche, no? Una parte e l'altra parte del nostro organismo comunicano grazie a Vata, infatti Vata ha a che fare con il sistema nervoso centrale periferico e guarda caso la sede principale di Vata è il colon, no? Quello che ormai tutti sappiamo di dover chiamare o poter chiamare il secondo cervello, quindi Vata, instabile, mobile, movimento, trasporto, comunicazione e sistema nervoso centrale periferico, Pitta, produzione del calore, trasformazione e diciamo tutto quello che è il processo di formare una cosa dall'altra, quindi la digestione fondamentalmente, Sede principale di Pitta, lo stomaco, il duodeno, l'intestino tenue, Kafa, lubrificazione, struttura, coesione, acqua e terra, no? Ci tengono insieme, ci mantengono stabili, ha quelle qualità e caratteristiche, come dicevamo prima, opposte a Vata e quindi la funzionalità di Vata, Pitta e Kafa, le funzioni di Vata, Pitta e Kafa interagiscono tra di loro e devono avere diciamo un bilanciamento tra di loro in modo da mantenere solida e ben strutturata la nostra corporatura, ben efficiente la nostra digestione, ben attivo e in grado di coordinare le varie attività del corpo a livello del sistema nervoso. Come riconosciamo lo squilibrio di questi tre? A parte appunto attraverso il polso, andando da una persona io faccio queste valutazioni, le faccio nelle farmacie, nelle parafarmacie, in studi privati, cioè io mi muovo un po' su tutto il territorio nazionale per dare la possibilità alle persone di ricevere da me questa valutazione che ho imparato a fare negli anni 90 1992, ho fatto il mio primo corso di due mesi in questo nostro centro di ricerca e di medicina ayurvedica in Svizzera, poi ho fatto un secondo corso nel 1994, sempre di due mesi, per studiare e approfondire l'analisi del polso e studiare e approfondire le metodiche di depurazione previste dalla medicina ayurvedica e mano a mano dopo quegli anni, ogni anno noi abbiamo avuto la fortuna e l'opportunità di avere, come vi dicevo, dall'India questi vaidia, questi medici ayurvedici nati e cresciuti da generazioni in famiglie dove la ayurveda veniva praticata dal padre o dalla madre o dalla nonna o dal nonno in modo che questa conoscenza passasse già nei primi anni di vita ai figli, le figlie, i nipoti che poi oltre ad avere questa buonissima impostazione fin da ragazzini già nella per esempio auscultazione del polso poi sceglievano anche di fare il corso di studi universitari in medicina ayurvedica quindi noi abbiamo avuto in tutti questi anni, a partire dagli anni 80 in avanti la fortuna di essere seguiti da questi medici ayurvedici per i quali l'analisi del polso è una tradizione così profonda da essere veramente degli esperti a 360 gradi noi con la pratica, lo studio in tutti questi anni ci siamo insomma abbastanza avvicinati a quelle che sono le capacità e le qualità di questi professionisti che potete immaginare hanno veramente una estrema capacità di rilevare quello che non va bene nel polso della persona che hanno davanti a loro quindi cosa rileviamo nel polso alterato no? e prima di tutto, prima di arrivare a quello, molti di voi magari avranno visto in qualche rivista, in qualche giornale o avranno letto qualche libro dove si parla della costituzione con cui ognuno di noi nasce questo è indubbiamente così no? come ormai abbiamo imparato dalla genetica e dell'epigenetica quando noi nasciamo abbiamo una serie di informazioni che derivano dai nostri genitori e a loro volte i nostri genitori li hanno ricevute queste informazioni dai loro genitori e così nella catena a ritroso per la genetica e per l'epigenetica si parla di almeno memorie di sette generazioni quindi tutti noi abbiamo come informazioni generali nel nostro DNA l'influsso delle esperienze di sette generazioni che ci hanno preceduto quindi ecco il perché è necessario fare questo riequilibrio che la medicina ayurvedica ci può fornire grazie all'analisi del polso perché noi nel polso non rileviamo la costituzione con cui siamo nati quella è un'informazione che ormai è un po' scemata già nei primi giorni di vita quella struttura con cui siamo nati che è determinata dalle due informazioni genetiche dei genitori che è determinata dalla gravidanza da come la mamma si è alimentata da quali emozioni può aver vissuto nei nove mesi di gravidanza è determinata anche dal mese del concepimento perché ogni mese dell'anno ha delle caratteristiche diverse di maggior freddezza all'inverno, di maggior calore all'estate di maggiore umidità alla primavera quindi queste qualità che già vi ho un pochino sottolineato quando vi ho parlato dei tre dosha sono presenti nel nostro organismo a seconda di questi fattori che vi ho elencato quindi quando noi nasciamo avremo una costituzione in cui dominerà vata o dominerà pitta o dominerà vata pitta o dominerà caffa o dominerà caffa e vata quindi queste combinazioni fanno sì che determinate caratteristiche le conserveremo indipendentemente dagli squilibri che accumuleremo nel corso della vita anche nei primi giorni di vita una certa struttura più logilinea o più rotonda il colore degli occhi a grandi linee la struttura della pelle delle ossa però già dei capelli però già queste strutture mano a mano nel tempo possono subire alterazioni a seconda che ci squilibriamo di più in vata, di più in pitta o di più in caffa prima di tutto dovete ricordare e considerare che vata viene chiamato il re dei dosha è il più leggero è l'unico dei tre che si muove perché è fatto di spazio e aria quindi può viaggiare, muoversi eccetera pitta avevamo detto che ha un leggero movimento ma è il movimento di una fiamma sopra una candela quindi non è che salta via dalla candela se in un bosco l'incendio cammina non è per via del fuoco è per via del vento che lo spinge quindi vata appunto è quello che può spingere pitta far muovere pitta in zone non di sua pertinenza nel nostro organismo e caffa assolutamente non ha movimento è acqua e terra quindi queste caratteristiche queste qualità le troveremo alterate è mano a mano che la persona si squilibrerà nel tempo a livello di vata pitta e caffa prima vi ho detto che la sede principale di vata è il colon e che vata governa il sistema nervoso centrale periferico ecco perché anche dal punto di vista della medicina moderna noi descriviamo le malattie psicosomatiche come più determinanti e più diffuse vata sistema nervoso centrale periferico è quello che appunto nella medicina moderna possiamo descrivere come disturbo psicosomatico quindi vata ha questa capacità o di mantenere una buonissima situazione a livello psicologico, a livello fisico e così via o di incominciare invece a fare il lavoro opposto a distruggere la nostra fisiologia e purtroppo vata lo squilibriamo molto facilmente perché vata essendo leggero e instabile basta che noi alteriamo fin da piccoli o dai primi anni di vita i nostri ritmi di vita i nostri orari in cui andiamo a dormire i nostri orari in cui mangiamo i nostri orari in cui ci dedichiamo alla nostra attività scolastica da piccoli o lavorativa via via che andiamo avanti bastano queste piccole alterazioni perché succeda qualcosa a quello squilibrio iniziale che vi ricordate può essere piccolo piccolo nella prima fase ma già un po' più importante nella seconda fase della malattia e questo squilibrio noi lo avvertiremo come vago disagio ma non certamente come malattia perché ancora non è una malattia ma quando vata si squilibri a livello del colon che è la sua sede principale che cosa avvertiremo? siccome vata abbiamo detto è fatto di spazio e aria avvertiremo una cosa che avvertono diciamo il 90% delle persone avvertiremo gonfiore disagio e questo gonfiore cominceremo a sentire che preme anche verso la colonna i disturbi di lombosacrali e di lomboschatalgie sono molto diffusi via via nel tempo ma anche in ragazzi e ragazze giovani quindi e a seconda poi di come si muove questo vata a livello degli organi abdominali potrà andare a disturbare il fegato quindi muovendosi verso sinistra quindi potremo avere dei disturbi epatici o dermatologici sapete che il colesterolo aumenta soprattutto a causa dello stress non a causa di un'alimentazione scorretta quindi quando abbiamo un sistema nervoso iperattivo perché siamo preoccupati perché siamo tesi perché non abbiamo mai avuto la capacità di come dire acquietarci in situazioni che ci diano un benessere psicologico perché fin da piccoli siamo stati sollecitati da una serie di impressioni esterne ma poi vi ricordo che appunto noi siamo il frutto di queste sette generazioni precedenti quindi una certa attitudine all'ipermovimento ce la possiamo trovare anche da antenati di cui neanche mai abbiamo saputo l'esistenza quando vata diventa troppo leggero quindi comincia a disturbarci l'addome però vi ricordate il terzo stadio della malattia è quando il dosha in squilibrio si sposta dalla sua sede e da questa diciamo porta questa caratteristica di squilibrio magari a un dosha vicino sopra vata a livello dello stomaco cepitta quindi quando vata è troppo leggero che cosa farà farà come fa un palloncino anziché riuscire a scendere quindi a eliminare bene feci, urine a eliminare il gas in eccesso andrà verso l'alto e andando verso l'alto che cosa farà accentuerà il calore e il fuoco nello stomaco gastrite o ancora di più porterà questo calore verso l'alto reflusso gastroesofageo tutto questo nella medicina moderna o anche nella fitoterapia viene diciamo in qualche modo attenuato con delle sostanze chimico naturali che riducono quel fuoco a quel livello nella medicina ayurvedica questo lavoro si fa con miscele di piante sapientemente coltivate raccolte e mescolate tra di loro in modo che anziché spegnere il fuoco e spegnere il fuoco non è una gran bella idea perché spegnere il fuoco vuol dire che quella persona si non avrà bruciore ma non digerirà più niente soprattutto non assimilerà più il calcio a livello delle ossa questo è il grosso problema che portano quei farmaci chiamati inibitori di pompa o i gastroprotettori no quindi i gastroprotettori è un eufemismo perché in realtà rovinano la capacità digestiva del nostro stomaco quindi nella medicina ayurvedica come vi dicevo si usano composti di piante medicinali non è ayurvedico usare un'unica pianta adesso vanno di moda le piante ayurvediche ma vengono usate singolarmente questo non è il metodo di utilizzo prettamente ayurvedico quindi usare la svaganda o lo shatavari o l'amla o la curcuma così individualmente in realtà non ha quell'efficacia anzi potrebbe dare anche qualche piccola problematica perché quella pianta può avere delle buone caratteristiche per vata e per pitta ma non bilanciare cafa quindi ci troveremo come nel caso per esempio della liquerizia una pianta assolutamente molto usata nei preparati ayurvedici perché è una pianta che va bene per l'apparato digerente per l'apparato respiratorio è una pianta che protegge molto bene il nostro stomaco quindi usarla da sola crea quelle problematiche che infatti hanno messo come dire in allarme tutti quelli che soffrono magari di ipertensione perché la liquerizia presa da sola equilibria solo vata e pitta e non equilibria cafa non equilibrando cafa cafa aumenta si squilibria e cafa può creare diciamo una sostanza edematosa una situazione di edema che quindi restringerà i canali della nostra circolazione portando come conseguenza l'ipertensione quindi capite una piccola conoscenza a volte è peggio dell'ignoranza quindi usare le piante come purtroppo abbiamo perso nella nostra cultura occidentale abbiamo perso questa antica conoscenza che era di appannaggio dei popoli celtici druidici delle nostre streghe che abbiamo streghe maghi li abbiamo bruciati a tutto spiano nei vari periodi bui dell'umanità e a loro apparteneva questa antichissima conoscenza che l'India per fortuna non ha perso ancora oggi una signora mi chiedeva ma l'India l'Ayurveda è una medicina indiana è una medicina orientale e io le ho risposto no l'Ayurveda è una medicina universale è come dire quello che ci ha dato Leonardo o Michelangelo o Giotto è solo per gli italiani no è un'espressione dell'anima della conoscenza della capacità di espressione di questa esperienza interiore avvenuta in tre adesso ho nominato tre grandi personaggi e artisti italiani ma è l'espressione dell'intera umanità espressa in particolar modo in questi tre personaggi Einstein era di nazionalità ebraica ma il suo concetto di fisica era assolutamente universale quindi l'Ayurveda è altrettanto universale la scienza vedica è altrettanto universale quindi non dobbiamo fare l'errore di pensare a volte mi viene fatta questa domanda che noi non siamo adatti per i preparati ayurvedici perché sono formulazione di piante che arrivano dall'India per fortuna l'India che è un popolo assolutamente tradizionale nonostante duecento anni di nominazione inglese è riuscito a far sopravvivere questa tradizione e a traghettare fino a noi queste antiche conoscenze quindi quando poi magari anche per le condizioni climatiche che stanno cambiando e per la riscoperta di questi valori che per ora sono ben documentati nelle piante che vengono dall'Himalaya piuttosto che dal Rajasthan e altre zone non inquinate dell'India sapremo trasferire queste conoscenze anche sulle nostre piante e alcune piante come la gramigna come la liquerizia come la svaganda che è della famiglia dell'Alkekenji che cresce anche in Sicilia e in Sardegna potremo anche formulare delle preparati con piante europee però questo non vi deve far pensare che quello che usiamo come preparati ayurvedici sia lontano dalla nostra struttura fisiologica assolutamente no quindi i preparati ayurvedici non andranno a proteggere soltanto lo stomaco come nel caso dei protettori gastrici chimici o gli inibitori di pompa o i preparati fitoterapici o motosicologici e così via che comunque vanno a proteggere quell'organo ma andranno a far riscendere nella sua sede corretta vata che è diventando troppo leggero come vi spiegavo prima salito verso lo stomaco ma in più può salire verso il torace torace la sede principale di kafa kafa è acqua e terra quindi mantiene morbide queste secrezioni avete sentito la mia tosse che cos'è vata che anziché scendere bene perché adesso sto parlando sto sto usando assolutamente a tutto spiano le mie facoltà di memoria facoltà di coordinazione intellettuale quindi vata aumenta arriva nella zona di pitta nella zona dello stomaco dove c'è calore perché è giusto che ci sia calore porta quest'aria e questo calore a livello delle secrezioni bronchiali e della struttura morbida e umida dei polmoni asciugando quella struttura morbida e umida dei polmoni è inevitabile la conseguenza della colpo di tosse o ancora di più delle persone che poi soffrono di disturbi respiratori più profondi l'attacco osmatico o l'attacco allergico ancora di più questo vata e questo pitta salgono fino a pitta irritare le gengive vata e pitta a irritare i turbinati e le mucose nasali creando quelle situazioni che poi chiamiamo anche lì riniti allergiche piuttosto che ipertrofie dei turbinati piuttosto che sinusiti fino anche a seccare le mucose dei nostri occhi quindi a portare quello che ormai è diffusissimo l'occhio secco quindi tantissimi colliri vengono venduti per idratare con l'acido ialuronico l'occhio secco ma la cosa più grave è che poi questa marcia insistente a cui non mettiamo fine perché è solo l'ayurveda che mette fine a questa marcia insistente che inizia fin dai primi vagiti del nostro neonato che già è arrivato giù con una bella borsettina con le memorie passate il problema più grosso è che poi si secca il cervello sapete che sono ahimè in forte crescita le malattie degenerative del sistema nervoso quello che chiamiamo alzheimer demenza parkinson e via via tutti i disturbi che stanno creando numerosi problemi sia le persone che se ne ammalano ovviamente ma anche ai familiari che seguono queste persone se voi vedete il cervello di una persona all'attacca alla risonanza magnetica o anche di una persona che è deceduta quindi il cervello dopo un'autopsia di queste persone è come una noce secca no? non è bello turgido idratato come dovrebbe essere appunto il cervello ma come una noce secca no? il cervello sembra un po' due gherigli di noce lì nella nostra scatola cranica quindi questo cervello secco è quello che nella medicina moderna viene analizzato per la presenza di queste sostanze tossiche che si chiamano betamilloidi e proteina tau e poi per questa mancanza di plasticità la plasticità è una caratteristica molto importante nel nostro cervello che permette addirittura al nostro cervello di rigenerare delle aree che sono state lesionate da un un ictus o altri altri disturbi degenerativi piccoli consigli per così lasciarvi anche qualche cosa di concreto questa sera poi ci rivedremo in altre dirette che faremo poi più avanti e potete poi trovare la 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 mia come dire i miei contatti sia su facebook che su instagram una pagina su facebook una pagina su instagram e da lì capire a seconda di da dove mi state ascoltando dove se vi interessa eventualmente potete incontrarmi fatevi tutti i giorni un termos da un litro di acqua calda bollita per 15 minuti perché l'acqua bollendo diventa estremamente sottile penetrante disintossicante cambia nella bollitura la struttura chimico-fisica dell'acqua diventano questi cluster no questi insieme di h2o diventano molto più sottili piccoli e penetranti nei canalini delle cellule quindi non solo ci idratano ma ci disintossicano o perlomeno ci aiutano a eliminare le sostanze idrosolubili per eliminare le sostanze liposolubili vabbè ci sono tutta una serie di trattamenti che vanno sotto il termine di panciacarma queste azioni depurative per il nostro organismo però in casa possiamo usare per cucinare il ghi il ghi è il burro chiarificato quindi è una grande tradizione anche nella nostra cucina soprattutto nelle zone di montagna il burro chiarificato si è sempre fatto perché quando il burro viene cotto lentamente perde caseina lattosi umidità è un grasso ricco di vitamina A vitamina E vitamina D vitamina K e contiene l'acido butirico che è un grasso importantissimo per la protezione e la prevenzione del tumore al colon il ghi ha un punto di fumo di 230 gradi quindi è più adatto per le cotture rispetto all'olio d'oliva e solubilizza le sostanze le tossine liposolubili nel nostro corpo quindi nelle anche piccole quantità che lo possiamo usare nell'alimentazione per cucinare le verdure per cucinare carne e pesce per chi non è vegetariano per fare le torte qualsiasi cosa dobbiamo cucinare lo possiamo cucinare con il ghi l'olio d'oliva extravergine lo usiamo a crudo quindi lo teniamo per quelle che sono le aggiunte a fine cottura o le cose crude che possiamo consumare la iurveda è più per il cotto il cotto è più facile da digerire da assimilare da trasformare non stracotto però anche nella medicina moderna abbiamo scoperto che queste sostanze molto importanti presenti in frutta e verdura che si chiamano bioflavonoidi soprattutto per la verdura sono più facilmente assimilabili e hanno la loro efficacia maggiore nella verdura cotta non nella verdura cruda quindi ecco una cosa importante rispetto all'alimentazione pasto principale il pranzo la colazione non troppo abbondante a seconda un po' dell'appetito la cena leggera non dovremmo cenare troppo tardi alla sera non dovremmo consumare proteine animali alla sera neanche verdure crude yogurt patate uova formaggi quindi alla sera va bene un cereale tipo riso farro qualche volta la pasta un legume come proteine vegetali e una verdura cotta questo ci assicurerà oltretutto un riposo migliore a proposito di riposo dovremmo andare a dormire presto stasera siamo tutti un po' in ritardo perché dovremmo andare a dormire entro le 10 di sera per quelli che sono i ritmi noi li abbiamo chiamati nella medicina moderna i ritmi circadiani nella iurveda questi ritmi erano codificati più di 5.000 anni fa e sono l'alternanza di vata pite caffa nelle 24 ore per esempio caffa che ci dà più stabilità più solidità più tranquillità aumenta tra le 6 del pomeriggio e le 10 di sera quindi ecco perché dovremmo andare a dormire entro le 10 di sera perché abbiamo già fisiologicamente no quella propensione a riposare poi magari ci addormentiamo sul divano ci tiriamo su e poi facciamo fatica ad addormentarci dobbiamo fare il pasto principale intorno a mezzogiorno luna perché è dalle 10 del mattino alle 2 del pomeriggio che aumenta pitta pitta ci fa digerire meglio e così via quindi iurveda come vi avevo detto all'inizio è scienza della vita quindi ci dà tutte le indicazioni per essere in armonia con i ritmi della vita ecco quindi questa insomma anche per così darvi l'idea di come possiamo gestire le nostre abitudini quotidiane quindi cena come pasto leggero pranzo come pasto principale una colazione leggera i cibi orientarci sui cibi come ormai stiamo capendo a chilometro zero e stagionali quindi non non cibi fuori stagione non il pomodoro in inverno è vero che ormai lo troviamo al supermercato a tutte le stagioni però il pomodoro crudo in inverno non è la scelta migliore un'alimentazione anche in conformità alle temperature quindi in inverno abbiamo più voglia di cibi più nutrienti abbiamo un potere digestivo più forte perché fuori fa freddo e quindi agni il fuoco digestivo dentro di noi aumenterà di intensità al contrario invece in estate c'è tanto calore fuori e quindi il calore dentro diminuirà quindi dovremo e già ci viene meno voglia di mangiare cibi troppo difficili da digerire quindi queste sono un po' anche delle regole così comuni che risalgono a quelle che sono le impostazioni culturali nostre ecco se magari avete qualche domanda io allora ecco qua ecco dice Anna giustamente dopo un po' che si beve acqua bollita 15 minuti ci si sente meglio qualcuno dice domani mattina provo benissimo vedo quello dell'acqua calda guardate riscuote sempre molto entusiasmo e tante persone che hanno seguito le mie conferenze o in presenza quando ancora riuscivamo a farle o così nei mezzi nostri di comunicazione online che sono fantastici secondo me poi mi dicono di essersi messi a fare questa questa piccola cosa di aver trovato grande beneficio quindi una cosa molto semplice ma veramente molto efficace anche le abitudini alimentari vedo che molte persone che l'adottano poi mi fanno sapere di essersi trovata bene la ringrazio per i suoi suggerimenti persone mi sono ritrovata in tutte le discrasie vata esatto sono abitudini che si è un comestire di vita alimentare come ritmo sonno e veglia allora l'acqua bollita a 15 minuti va bevuta sempre calda sì assolutamente sì quindi va conservata in un termos perché in ayurveda non si ricuoce niente no quindi anche l'acqua non è che la bolliamo poi la teniamo lì e se fredda la riscaldiamo perché ogni processo attraverso i quasi noi riscaldiamo qualcosa in realtà crea quello che noi chiamiamo la medicina moderna radicali liberi e anche il consumare le cose non cotte e mangiate come si può dire quindi fresche preparate consumate in questi cibi dopo già mezz'ora si formano radicali liberi quindi non vanno bene quindi patrizia dice circa di anno spostato non dormo mai prima che si aggiorno esiste una soluzione devi piano piano di mezz'ora in mezz'ora riportarti ai ritmi giusti vedrai che ce la fai io ho dato questo consiglio a un ragazzo che seguo che ha anche iniziato la pratica della meditazione trascendentale e mi ha detto che sta funzionando nel giro di qualche mese da 4-5 del mattino a cui andava a dormire anche perché la moglie è infermiera e spesso facendo la notte torna a quelle ore lì e lui facendo questi piccoli spostamenti di poco no magari ogni settimana 10-15 minuti mezz'ora perché l'abitudine purtroppo è un fenomeno che condiziona il nostro sistema nervoso molto in profondità quindi dobbiamo agire con gradualità non troppo drasticamente perché rischieremo di non dormire quindi fai piccoli passi l'acqua nella giornata un litro è sufficiente un litro però se volete fare anche un litro e mezzo lo potete fare perché è molto più efficace e funziona molto più in profondità rispetto anche a una buona acqua di buona qualità con basso residuo fisso se siete in una città o in comune dove l'acqua è abbastanza buona potete bollire l'acqua del rubinetto se c'è un po' di calcare fatelo depositare e non versatelo dalla pentola nel termos se l'acqua dove vivete non è buona prendete una buona acqua minerale quando bolle l'acqua togliete il coperchio e fate bollire a fiamma bassa ripeto un litro d'acqua o anche un litro e mezzo quindi il litro è già sufficiente allora allora in realtà quello che cucino dice appunto cerco di mantenerlo croccante allora la pasta invece va cotta bene come anche il riso perché se no la mella centrale che è anche più ricca di glutine non la digeriremo mai la verdura vi consiglio di cuocerla con il ghi non bollita perché bollita tutte le sostanze nutrienti rimangono nell'acqua della bollitura quindi fate un cucchiaino di ghi nella pentola magari antiaderente fate sciogliere il ghi tagliate le verdure di stagione non so in questo periodo il radicchio rosso piuttosto che la zucca o la verza tagliate sottile aggiungete a questo ghi sciolto quella quantità di verdura il finocchio lasciate un attimino rosolare aggiungete due dita di acqua bella calda con un pizzichino di sale mettete il coperchio fate stufare mantenendo croccante però pasta e riso vi consiglio di cuocerli bene perché rimanga un litro d'acqua vedrete che poi ci fate sulla mano ovviamente ne dovete mettere un po' di più perché evaporando consuma quindi mettetene circa un litro e mezzo ma poi magari vedete che ve ne basta di meno quindi lo vedrete a occhio quindi fate ripeto arrivare a bollitura se volete col coperchio poi togliete il coperchio togliendo il coperchio abbassate bene la fiamma e fate sobollire per 15 minuti la cottura al vapore aumenta molto vata quindi il vapore no è spazio e aria quindi aumenta vata vi consiglio di stufarle come vi ho detto partendo dalla cottura doratura con il il ghi e poi aggiungere l'acqua quel poco di acqua che vi serve a stufare le verdure quindi vi consiglio più che la bollitura o la cottura al vapore in questo modo ok io direi che possiamo finire qua questa serata è servita per introdurre la iurveda mi troverete appunto sulle pagine facebook e instagram ringrazio di nuovo focus e il mistero della vita in particolar modo che mi hanno permesso di intrattenermi con voi questa serata grazie a tutti cerchiamo di andare la pasta e il riso cotti abbastanza non aumentano l'indice glicemico vedete dovete sempre ragionare su un processo diverso che non solo l'indice glicemico ma quanto digeriamo effettivamente di quell'alimento quindi cercate di cuocere bene le cose io suppongo di essere vata 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 qua cosa dice eccolo qua a parte che non tollero il caldo quindi avrai uno squilibrio sia di vata che di pitta quello si può vedere poi dal polso grazie buonanotte buonanotte a tutti grazie Anna Anna Tamburini Torre che è la persona che io conosco già da tempo che ha permesso questa serata e buona serata e buonanotte a tutti arrivederci buona serata